Siclari Daniele, responsabile della Delfin Commerciale di Settimo Torionese. Delfin Commerciale è un'azienda leader nella vendita di macchine per la pulizia industriale. Lavoriamo con tre tipologie di macchine differenti. L'aspiratore industriale, forti di una casa produttrice a pochi passi da noi. L'avasciuda ai pavimenti e spazzatrici del marchio IPC Gunshow di Reggio Emilia. L'esperienza trasformata in ambizione e passione ci permettono di differenziarci dai nostri competitor e soprattutto di arricchire il nostro parco clienti per farci crescere. In Delfin Commerciale non ci limitiamo solo a fornire queste tre macchine, ma in Delfin Commerciale si possono trovare un mondo di servizi. Vanta un'officina interna composta da quattro ponti, un'officina mobile dove ci sono due furgoni che tutti i giorni sono in giro ad assistere alle nostre macchine. Abbiamo un parco di macchine nuove e un parco macchine di macchine usate. E avere delle macchine usate in pronta consegna è fondamentale per gestire i tempi, le tempistiche che i clienti richiedono tutti i giorni. Ed ecco che con le macchine usate noi possiamo permetterci di fornire anche ai nostri clienti la soluzione del noleggio. Si lavora con una grandissima ambizione. Ecco che non ci accontentiamo solamente di vendere una macchina. La nostra fase di vendita è composta e divisa da diversi fattori. Il primo importante, una prima fase, è la consulenza. Noi andiamo direttamente dal cliente per capire l'esigenza. Seconda fase, andiamo dal cliente con la macchina per far toccare con mano cosa è in grado di fare la nostra macchina. E nella terza fase, se tutto va bene, riusciamo a vendere la macchina. I nostri commerciali sono supportati da un ufficio commerciale, un back office. Ecco che anche là noi garantiamo tempistiche velocissime e rapide per offerte e quant'altro. Consegne. Abbiamo anche lì dei furgoni attrezzati, dove tutti i giorni i nostri ragazzi caricano i furgoni, vanno sul posto e non vanno via finché il cliente non è soddisfatto della spiegazione della macchina. Ecco che la nostra ambizione è quella di non accontentarci dei successi finché raccolti. Grazie. Grazie. Grazie.